Ma che cos'è questa Apple 15 di cui parlano tutti? E che il mio padroncino vorrebbe tanto? Non capisco Vediamo un po' di cosa si tratta Ma perché ci sono tutte queste mele? Ah, ho capito Apple vuol dire mela nel linguaggio umano Beh, bastava dirlo Se è questo che il mio padroncino vuole Ve le vado a prendere subito Ok, c'è una mela laggiù Sono nel posto giusto Ciao, sono Luca Ti posso aiutare? Sì, grazie Vorrei 15... Come si chiama? 15 Apple Che cosa? Ah, so io quali Apple stai cercando tu Ecco, tieni Buona giornata Mi dia pure Grazie mille Cosa? Ma questo è un sacchetto dell'Apple Non dimmi che mi hai comprato il mio iPhone 15, Yuko Dai, umano, veloce, aprilo Ma pesa tantissimo, Yuko Ma ci sono un sacco di mele Sì, esatto Sono 15, guarda Ehm, perché? Non era quello che volevi?